Anas comunica che proseguono spediti i lavori di demolizione dei viadotti situati sul vecchio tracciato della 3 Salerno-Reggio Calabria nell'ambito dell'intervento di realizzazione del macrolotto 3.2 nei pressi di Leino Borgo e Mormanno in provincia di Cosenza, l'ultimo grande cantiere dell'autostrada. Infatti è stata eseguita nei giorni scorsi con l'utilizzo di esplosivi la demolizione di altre due campate del viadotto in questione ai confini proprio tra la Calabria e la Basilicata mentre lo scorso giovedì 19 maggio sono state effettuate altre demolizioni sempre mediante l'uso di esplosivo che ha riguardato altre tre campate del viadotto Iannello e dell'intera carreggiata sud del viadotto Pineta.